Ciao a tutti e ben ritrovati a una nuova puntata di Pagine Aperte Web, la finestra online che vi permette di leggere i libri col cuore. Oggi è una puntata speciale. Mancano pochi giorni al 27 di aprile, un giorno ancora di più speciale che verrà ricordato quest'anno per la storia della Chiesa, ma per la storia del mondo. Festeggeremo infatti la canonizzazione di due papi che hanno segnato la storia. Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, due uomini di Dio, due uomini del concilio. Ho scelto quindi di presentarvi due novità editoriali che le edizioni San Paolo e le edizioni Paoline hanno scelto di affiancare anche ai settimanali Famiglia Cristiana e Credere per far entrare la vita di questi due uomini santi, due uomini di Dio, nelle case di tutti a un piccolo prezzo. Due novità editoriali vi ho detto. Il primo si intitola Papa Giovanni il Santo ed è scritto da Marco Roncalli e il Il secondo si intitola Carol il Santo, due titoli simili insomma, scritto da Saverio Gaeta e Slawomir Oder. Un libro che parla di santità. Quella santità che diceva Carol Wojtyla è la santità di tutti ed è raggiungibile da tutti. Non sono libri normali, biografie speciali perché chi parla sono proprio i protagonisti? Sono questi uomini di Dio, due papi, due uomini santi che parlano e si raccontano attraverso i loro scritti e attraverso i loro gesti d'amore. Un amore profondo e che ha lasciato un grosso solco nella storia, che ha spianato la nostra strada e la nostra storia. Ma partiamo dal primo libro che vi ho presentato. Vi ho detto Papa Giovanni il Santo scritto da Marco Roncalli. Come vedete il nome dell'autore ci dice che c'è un legame tra Papa Roncalli e l'autore stesso. Infatti Marco Roncalli è un pronipote del Papa, uno dei maggiori conoscitori della sua vita, che ha passato la sua infanzia tra i ricordi e le storie di questo suo vicino parente, e che per tanti e tanti anni è stato anche a contatto con uno dei maggiori conoscitori della vita di Papa Roncalli, ovvero il cardinal Loris Capovilla, che all'interno del libro ha scritto la postfazione. E' uno dei maggiori conoscitori perché è stato il segretario personale di Papa Roncalli per più di vent'anni, già da quando era patriarca di Venezia. Ma vediamo più nel profondo cosa c'è di speciale in questo libro. Marco Roncalli ha scelto, in questa sua novità editoriale, di presentarci un nuovo ritratto, non tanto una biografia ma una vera e propria testimonianza della vita di questo uomo santo. Giovanni XXIII è un vero e proprio uomo di Dio, un uomo che nella sua storia si è raccontato attraverso i suoi scritti e i suoi gesti, ed è così proprio che ce lo racconta con la sua voce. E' Giovanni XXIII che ci parla prima di tutto a partire dal giornale dell'anima, il suo più importante libro in cui si racconta, tanti i suoi gesti di pace e le sue testimonianze apostoliche lungo la sua vita. Un Papa che non ha mai avuto paura di parlare di santità. Già quando era giovane la seminarista diceva di voler diventare santo accettando le croci che la vita gli dava. E una volta nominato santo disse, poiché dappertutto mi chiamano santo padre, come se questo fosse il mio primo titolo, ebbene devo e voglio esserlo davvero. E in questi anni abbiamo visto come realmente c'è riuscito. Sono pagine che raccontano a tutto tondo la sua testimonianza apostolica, una testimonianza di viaggi davvero tanti, tanti e tanti, che l'hanno portato in giro per tutto il mondo a diventare un vero e proprio testimone. Prima delegato in Bulgaria, in Turchia e in Grecia, dove ha vissuto la sofferenza e il dolore della seconda guerra mondiale, per poi diventare nunzio apostolico a Parigi, fino a diventare poi patriarca a Venezia. E quando poi viene nominato papa, diciamo che è un papa vecchio, se così possiamo dire, ma è molto bella la frase in cui l'autore ci dice che il vecchio pontefice ringiovanì la chiesa. Una frase davvero bella e che mi è rimasta impressa nel cuore. Veramente quando il papa dice che tutto il mondo è la sua famiglia, ci testimonia come abbia lasciato un'impronta profonda nel mondo della chiesa e non solo. E tanti e tante le immagini che ci mostrano come questo uomo di Dio fosse realmente un segno della fede. Molto e molto belle le immagini e i racconti in cui papa Giovanni stesso ci racconta della gioia che provava di fronte alle tante folle festanti che lo accoglievano quando lui viaggiava in treno da papa. È così che possiamo dire che con Giovanni XXIII è iniziata una nuova era, quella di una chiesa popolo di Dio, come diceva egli stesso, che riconosce nel papa un parroco e un amico. Un parroco sì, un amico ma anche un uomo forte di fede che nella sua semplicità, quella in cui veniva definito il papa buono come tutti lo conosciamo, è riuscito ad aprire una porta, anzi un portone e a iniziare il concilio Vaticano II. Un qualcosa veramente che ha ancora un significato più profondo in quest'anno in cui festeggiamo i 50 anni dalla fine del concilio Vaticano II. E come dice papa Francesco di fronte alla figura di questo grande uomo? Ecco, vediamo che era un uomo di governo, dice papa Francesco, era un conduttore condotto dallo Spirito Santo per obbedienza. È questo che lo fa santo, ci dice papa Francesco. E sono due le parole che uniscono Giovanni XXIII a papa Francesco. L'obbedienza è la speranza. E infatti il papa ci dice che ciò che fa la differenza in Giovanni XXIII è l'abbandono quotidiano alla volontà di Dio, con una grande pace che ha diffuso nel mondo e in cui si trova la radice della sua santità in questa sua obbedienza evangelica. Obbedienza evangelica, due parole importanti e profonde che ritroviamo molto molto spesso nei documenti conciliari e che ci permettono di passare dal libro di Giovanni XXIII a quello in cui approfondiamo la vita e la testimonianza, anzi l'obbedienza evangelica di Carol il Santo, un libro scritto a quattro mani da Saverio Gaeta e dal Cardinal Oder. Due persone che dialogano tra di loro, un dialogo fitto che ci permette di leggere sotto uno sguardo diverso, critico ma allo stesso tempo molto molto profondo e spirituale, la vita di questo grande uomo, di questo grande santo. Gli autori sono due grandi esperti del settore. Il primo, Saverio Gaeta, è uno dei maggiori vaticanisti e il secondo, Monsignor Oder, è il postulatore della causa di canonizzazione di Papa Vuitiwa. Chi meglio di lui può conoscere la figura di quest'uomo, un uomo grande e un uomo forte nella fede. Ecco, di fronte a una persona che ha realmente segnato la vita degli ultimi trent'anni del Novecento, non possiamo che fermarci e leggere non tanto i numeri e le cifre, come ci dicono entrambi gli autori, ma andare oltre. È vero che si può dire che Papa Vuitiwa è l'uomo dei record. Certo, è stato nominato vescovo a trentotto anni, ma questo non basta per capire la grandezza e la profondità di questo Papa Polacco, da sempre santo nel cuore della gente. Il libro è un libro speciale, non tanto una biografia o un racconto, quanto un vero e proprio fitto dialogo tra un esperto come Saverio Gaeta e uno degli uomini che maggiormente sono stati a contatto con la vita di Papa Vuitiwa. Ecco come Monsignor Oder riesce veramente ad approfondire e a testimoniare direttamente ai lettori quanto sia stata grande e profonda la spiritualità, la spiritualità di questo Papa. Anni di studio sui testi del Pontefice Polacco e sugli eventi che hanno segnato la sua vita, a partire dalla messa in pratica del Concilio Vaticano II, fino a parlare poi dell'attentato con Ali Akja. E tanti e tanti colloqui personali con cui veramente Monsignor Oder riesce a capire nell'intimità quanto sia stata grande la figura di quest'uomo. Tante le confidenze che il libro ci rivela e ci permette di capire come quest'uomo di fede sia riuscito ad andare nel profondo del cuore dei cattolici e non, degli uomini semplici come degli uomini politici. È molto molto bello rispondere alle domande che il libro ci pone. Quali sono i lineamenti della personalità di Papa Giovanni? Quali e quali i segreti del suo fascino come persona e come uomo di fede? L'uomo dei viaggi possiamo dire, l'uomo dei giovani, un uomo di fede che veramente con la GMG è riuscito a segnare il sentiero della fede di tanti e tanti giovani. Ed è molto bello vedere come nel libro, accanto alle testimonianze, c'è anche il racconto del viaggio delle reliquie che sta facendo Papa Vuitiwa tra il mondo di oggi. È come se il suo pellegrinaggio nel mondo di ieri stesse continuando oggi attraverso le sue reliquie. Ed è molto bello leggere nell'ultima parte del libro quelle che Oder chiama le grazie e i miracoli del potente intercessore. Infatti l'ultima parte del libro è dedicata proprio all'analisi delle due donne miracolate che hanno permesso a Papa Giovanni Paolo II di giungere alla canonizzazione. È molto bello leggere come quest'uomo contribuì all'apertura di molte porte di Cristo. Da sempre santo nel cuore della gente Giovanni Paolo II è riuscito davvero a segnare la vita di tante e tante generazioni. Basta guardare quanto i giovani lo amano e basta leggere le parole di Monsignor Oder per capire come la santità di Papa Vuitiwa è segnata da tre parole che spesso ha messo in mostra Benedetto XVI. La preghiera, la sofferenza superate però dalla speranza. Quella speranza che Papa Vuitiwa metteva all'interno del suo amore in Maria nella Madonna dicendogli totus tuus sia nei momenti di difficoltà fino ad arrivare a quella morte quando lui diceva che solo nella Madonna poteva trovare l'affidamento totale per giungere al Cristo. Insomma due libri che sono veramente due testimonianze forti e intense, accessibili a tutti, un linguaggio davvero semplice ma forte e che lascia il segno. Vi ricordo quindi i titoli. Il primo è dedicato alla vita di Papa Roncalli, Papa Giovanni il Santo, scritto da Marco Roncalli. E il secondo si intitola invece Carol il Santo, scritto da Saverio Gaeta e Slawomir Oder. Entrambi editi sia dalle edizioni San Paolo che dalle edizioni Pauline. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!